Scrivetemi sotto nei commenti chi è più forte secondo voi tra Ninja e Tfew Oggi ragazzi siamo qui per sfidare il signor Ninja in persona su Fortnite in una box fight 1v1 non abbiamo scuse, non andiamo in partita quindi non c'è la casualità, la randomicità delle partite normali 1v1 alla meglio delle non lo so, adesso decideremo, vedremo come andrà la sfida Ma adesso vi faccio vedere le immagini di quando Ninja ha accettato la mia sfida Ok, accetto il tuo challenge Ok raga, accettate la nostra challenge Ovviamente prima di iniziare il video vi ricordo di utilizzare il mio codice supporto a un creatore GGYT Tutto grande e tutto attaccato nello shop di Fortnite Se lo utilizzate mi raccomando mandatemi la foto su Instagram, questo qui è il mio profilo Perché aggiungerò tra i miei amici di Fortnite alcuni di voi che appunto lo utilizzeranno Detto ciò abbiamo deciso di utilizzare lui la mia skin Perché appunto lui utilizzerà la mia skin personale E io invece utilizzerò la sua Così per variare un attimino Lasciate un bel mi piace perché a 10.000 like andremo a sfidare Tfew Io ve l'ho detto ragazzi, a 10.000 like sfideremo Tfew Mi raccomando iscrivetevi al canale se non questo è fatto perché a 90.000 iscritti è un passo Quindi mi raccomando continuate a supportare il canale Siamo sempre più vicini appunto anche ai 90.000 iscritti Grazie a tutti per il supporto E niente ragazzi adesso vado in lobby con lui e iniziamo questa sfida Ok raga abbiamo scelto la mappa 1v1 Eccolo lì ninja ovviamente Siccome vi dicevo si è messo la mia skin Boxfight classica raga Tra l'altro la mappa l'ha scelta lui quindi la conosce meglio di me Ecco già ci puscia Noi scendiamo Eh ragazzi ninja è ninja ragazzi è di un altro pianeta Ninja ragazzi lo conosciamo tutti lo sapete Uh però No regà ho fatto 80 di danno a ninja Ho fatto 80 di danno a ninja Per me è già una vittoria No No c'è il suo balletto Fa il suo balletto raga Fa il suo balletto Lol stile ninja Quel balletto Uh Che fa ci prende in giro Oh ninja guarda ti sto per uccidere Attenzione Eh questo è Eh rip ragazzi C'è fa pure il suo balletto ci fa Maledetto E niente Cioè per me è stato un onore soltanto hittarlo Per me è stato un onore No guarda che sta facendo Ci prende in giro raga Tra l'altro spero non sia in live mentre stia facendo questo video Se no L'ansia potrebbe Crescere Uh uh scappiamo 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 No Ma che cacchio ho fatto No regà io ho tirato il pesce Ho tirato il pesce Ho tirato il pesce raga Mi vuole rubare il pesce L'abbiamo hittato Eh me l'ha rubato raga Mi ha rubato il pesce Me l'ha ritirato Ma che sta facendo Ok grazie Ci ha ritirato il pesce Grazie Molto gentile Prima non so nemmeno di cosa volevo fare No raga io non sono abituato per niente a fare il box Fai Uh L'abbiamo ucciso raga È una kill anche per noi Gli facciamo sentire ovviamente il potere italiano Con la pizza Facciamogli tipo la strategia andandogli sotto Eh no non ci sto 100 100 gli abbiamo tolti però Solo eppure lui ci ha fatto malissimo Eh rip regà Uh altri 100 Eh ragazzi Qua è stato bravissimo col muro Proviamo a laserarlo Proviamo a laserarlo Lui già ha mouse e tastiera Io posso sfruttare la mia automira ragazzi Ovviamente con il pad Eh però sarà difficile Sarà difficile Ci siamo laserati a vicenda Sì sì edita edita Via c'è via c'è ninja Via c'è Via c'è ninja 99 No non mi ha sparato il pop Regà Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Facciamo A curarci Mi mangio subito il pesce Se no non faccio il tempo Eh non ho fatto il tempo Raga Eh no raga Mi ha distrutto Sì sto orando Mi sta distruggendo Non ci sto capendo niente Ho fatto il mal di testa Ragazzi Ho fatto il mal di testa Ok Uh No sta qua sotto Mannaggia No raga No raga Qua eh Qua sto perdendo Un attimino il ritmo Eh Qui sto perdendo Un attimino il ritmo No Qua gli avevo fatto Un bel edit eh Qui gli avevo fatto Un bel edit Lui balla Ma qui gli avevo fatto Davvero un bel edit Poi Trasciando il fatto E sto lentissimo A sparare Ma avevo fatto Un bel edit Eh raga 4 a 2 per ninja Però vi dirò la verità Io Avrei firmato anche Per una singola vittoria E ne abbiamo fatte due Da due No raga Non l'ho visto Raga Non l'ho visto Ha fatto prima lui 5 a 2 No No Non me lo prendi Sto muro Signor ninja Uh Dai che non mi ha visto Non riesco a piettarlo Non riesco a piettarlo Ragazzi Mi sta devastando Mi sta devastando Raga 6 a 2 Raga Mi sta devastando Mannaggia Con quei due round vinti Ci avevo sperato tantissimo Con quei due round vinti Ci avevo sperato tantissimo Io lo ricordo A 10.000 like Andiamo a sfidare anche Tfew Chissà se con Tfew Andrà meglio Ma a mio avviso È più forte Tfew Ragazzi Di ninja Qua mi viene addirittura A picconare Ci ha provato a trollare Ma non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta A trollarci Eh signor ninja Comunque stavo dicendo Scrivetemi sotto i miei momenti Chi è più forte Secondo voi Tra ninja E Tfew Secondo me È più forte Tfew Comunque E giocare contro Tfew Già è difficilissimo Giocare contro ninja Figuriamoci contro Tfew Proviamo a fargli un po' di danno Non ce l'abbiamo fatta Ovviamente What Madonna Mi ha tolto Raga Sono stato lentissimo 7 a 3 7 a 3 Io direi a questo punto Arriviamo fino a 10 vittorie Il primo arriva a 10 vittorie A lui mancano solo 3 Ma per me adesso Sarà impossibile Signori Ci ho provato Però almeno lo sta Dai Eh rip Uh 90 E olè E lo uccidiamo Ancora Potere italiano Vabbè qui ragazzi Mi sta trollando Invece che col pompa Sta sparando col fucile Assalto Mi sta palesemente trollando Ragazzi Eh vabbè raga Ma se lo può permettere Raga ma come fa Essere così veloce A scendere A risparare subito 90 Oh mio dio Oh mio dio Dai che ci siamo 7 a 5 La maggior parte dei punti L'ho fatto Perché mi sta trollando Ma 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 è sempre Comunque una soddisfazione Uccidere ninja Ma raga la cosa Che mi fa ancora Più onore È che sta utilizzando La mia skin Partito a 2000 Partito a 2000 Raga Dov'è Ha fatto il gioco Della scala Ha fatto Mannaggia Raga qua 8 a 5 8 a 5 Brutta Eh no È passato Quasi 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 Siamo andati Veramente cattivi Ma stiamo un po' Sfaciolando Tutti e due In questi ultimi round 8 a 6 Però Eh vabbè raga Mannaggia Quanto è veloce 100 Però gliel'abbiamo fatto E 40 Eh raga Gli manca una vittoria No 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 raga Da sopra GG No Ma come Oddio Ma che è successo Mi stava piccolando Ma non ho credo Perché il mio pompa Non ha sparato subito Vabbè Niente Mi sta provando a trollare Ragazzi Gli ho detto Ho fatto sette punti Ma su sette punti Quattro Massimo cinque L'ho fatti Perché mi stava provando a trollare Ok raga No Spero di prenderlo No Gli ho fatto un bel edit Ma poi non sono riuscito a prenderlo Eh L'ho allisciato Ah Mannaggia La miseria Mannaggia La miseria Comunque Ragazzi Io vi dico Che Purtroppo Il giocatore Che è il mio avversario Non è ninja E dico purtroppo Perché in realtà È un player Più forte Di ninja Perché qui con noi Ragazzi c'è Lollino Obba Lollino Ciao Ma Lollino Potrei essere un po' più buono Con me Eh Hai rubato la skin di ninja Ma come Ti ho fatto solo 100 Da qui vicino Ma che Niente raga Purtroppo ho scritto a ninja Ma Ha rifiutato Ha rifiutato il mio invito Ma perché ha detto no C'ho troppa paura di sfidarmi Di sfidare te E quindi alla fine Ho dovuto Ripiegare su un giocatore Che in realtà È molto più forte di ninja Tra l'altro Andatelo a seguire su twitch Su youtube Vi lascio tutti i link in descrizione Lollino Hai detto che a 100.000 like Su questo video Ti spogli vero? Ha un posto Perfetto Niente raga 10.000 like Andiamo a giocare contro Tfew Tutti i link Ovviamente per i canali di Lollino Vi la lascio In descrizione E niente Iscrivetevi sotto nei commenti Però questo era vero Chi preferite tra Tfew e ninja Ribadisco Sono me più forte di Tfew Tu chi preferisci Lollino? Ninja Ninja Ninja? Sì sì Attenzione Ninja ha le sue doti Ninja ha le sue doti E se lo dice Lollino Lo dice Lollino Raga Per noi è tutto Ci troviamo domani In un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi